The Economist, intitolare una strada a Craxi, un onore vergognoso, Roma 7 gennaio, onore vergognoso, Bettino Craxi, un premier caduto, riconquista a favore, con questo titolo e sommario l'Economist in edicola venerdì si occupa del progetto della città di Milano di dedicare una strada a Bettino Craxi, che in settimana definisce un latitante e il politico più caduto in disgrazia della storia moderna italiana, parlando poi di una storia più ampia e riabili francese. Questo è l'articolo che è stato pubblicato su Economist, quindi è un articolo estraneo qui. Grazie Stefani, laio molto bella ragazza.